Siamo a condonato Pintossi, Rubinetterie Bresciane, è un ritorno, un gradito ritorno. Sì, grazie. Siamo a fare i conti con l'ambiente, oggi parliamo di acqua e nello specifico il vostro contributo su cosa verte. L'intervento di oggi verte su un prodotto particolare che consente la riduzione delle perdite apparenti o cosiddette amministrative. È un prodotto che consente sostanzialmente di misurare anche le piccole portate dei contatori acqua che normalmente non vengono misurate. Questo quindi nell'ottica di ridurre le perdite apparenti e le perdite in generale. Visto che è un argomento estremamente sentito in questo momento e estremamente di attualità. Il prodotto si chiama UFR ed è un prodotto che si monta appena prima o appena dopo il contatore acqua e ha questa funzione. Ridurre le perdite amministrative o apparenti. La vostra azienda è in prima linea diciamo in questa fornitura. Sì, la nostra azienda è da sempre in prima linea nella produzione soprattutto di valvola sfera e di soluzioni per allacci per i contatori acqua. In particolar modo con questi nuovi prodotti che hanno un contenuto tecnologico superiore e innovativo. Grazie, grazie Donato Pintossi. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. Grazie. Grazie a voi.